Parliamo con la leggenda rossa-azzurra, chiamiamolo così, capitano dell'ultima promozione in Serie A, Armando Pantanelli. Cosa pensi, visto che siamo arrivati alla quindicesima edizione di questo avvenimento, e se ancora ti suscita emozione dopo tante volte che hai partecipato? Assolutamente sì, è sempre una bellissima emozione. Entrare in campo con lo stadio pieno veramente ricorda i bei tempi. Quindi è sempre un'emozione, qui è più un'onorevole causa, quindi lo si fa sempre molto molto volentieri. Grazie.